Pronto, pronto? C'è nessuno ascolto? Hey, hey, hey! Sì, eh, Mayday, Mayday, pronto, mi dica! Eh, buonasera, parlo con signora Angela? No, io sono signora Angelo! E' proprio sicuro di non essere signora Angela? No, guardi hai ragione, sono la signora Angela! Però sta, sto facendo questa cura di ormoni, per cui ho la voce un po' pesante. A volte va su, a volte va giù. E a volte ti copra bene, è stagione di ormoni, c'è preso. Sì, non ci sono più le mezze stagioni, signora. Ma cosa mi fa dire, cosa sta dicendo? Io sono signora Angelo, punto! La sua moglie è già andata via! E' sapendo impiccata, guardi, adesso se mi dice in fretta, magari la afferro al volo e le riferisco. Ma no, non la disturbi, io puoi dire a lei? Sei un po' scema, per così, dica! Buonasera e benvenuto nel magico mondo del Truffon! Sì, con chi parlo? Buonasera e benvenuto nel magico mondo del Truffon! Sì, con chi parlo? Buonasera e benvenuto nel magico mondo del Truffon! Tu, tu chi sei? Come ti chiami? Io! Eh, sì! Catiusha! Oh, Catiusha! E cosa vuole da me, Catiusha? Truffon e nuovo servizio di offerte direttamente su suo cellulare! Eh, mi scusi, ma come ha fatto ad avere il mio numero? Eh, l'ho trovato in bagno del tuo grill, com'era? Praticante e sadomaso, ricerca emozioni forti, che mamma? Senta, signorino, io la ringrazio per la telefonata, però non mi interessano le sofferte, con il cuore glielo dici. Ma che deve reagire così? E lei mi tratta male, e io neanche italiana, racista! Ma non è che volevo essere ragazza? Di dove è, signorina? Boh, Benevento? Ma cazzo, se non lo saprei, è una domanda, lo devo sapere io, scusi! Parapapapapapà! Cos'è? Compra il nuovo iPod modello Schwarzeneggera sui dieci euro, mh? Un iPod a dieci euro? Sì. Eh, ma è ottimo questo prezzo. Eh sì, puoi ascoltare musica quando sei in palestra, ma solo di Tiziano Fero! Ah, adesso ho capito la magagna, guarda, io non ho mai ascoltato Tiziano Farneticare, credere di stare bene quando è inverno. Eh, ha visto? E adesso qualche domanda per aggiornare il suo profilo. Sì. Se ha due gambe, digitare zero. Sì. Se ha due braccia, digitare zero. Sì. Se ha due occhi, digitare zero. Sì, ho anche due coglioni, signorina, cosa devo digitare, no, per sapere? No, congratulazioni, se il profilo comba già 100% con quello del nostro consumatore medio. Ma è disfinitante di avere due braccia e due poglioni, non ho capito. No, ogni volta che le parlo dico qualcosa, lei si metta a piangere, scusi. Non è successo adesso? E io voleva dire altra offerta. Eh? Ma folio finito! Signorina, sarà sul retro, potrei guardare. Ma dietro non c'è nessuno! Ma sul retro del foglio, dove cazzo guarda? È vero! È! Ma lei è genio! Eh, ma erano indecise dare il premio Nobel a me, a X, poi ai punti ha vinto lui, ma guarda, ai punti, so. Chi è conosco Busone de X? Sì, Busone de X, famosa Bologna in tutte le miglia romane. Sì. Ma non mi interessa. Offerta de copia a soli 50 euro. Arrivederci, Capiuscia, veramente. Parababababà. Offerta a ristoranti da 36 euro. Ma da dove cazzo sei entrata tu? D'una fibra utica. Io ho capito chi sei tu, sai? Capiuscia. No, tu sei una stalker. Ecco, diciamo le cose come stanno. Ma allora lei è proprio cafone? Lei ha detto che io ho baffoni, che magari esce in giro a sparare gente così per la strada. Ma non ho letto questo, cosa c'entra? E lei ha detto stalker. io so, Stalker Texas Ranger, ma a me piaceva Signora De Giallo, era anche mio soprannome De Bambina, una vita piena di mistero, non lo so, no, De Bibi, me pisciavo sempre addosso e le tiro tutto, guarda, non mi interessano i suoi problemi di quando era infante, senta, comunque prima mi ha telefonato, adesso mi piomba qui, mi dice cosa vuole da me, Trufon e nuovo servizio, de offerte domiciliari, i soliti giri di parole per vendere, per un classico servizio porta a porta qualunque, mi scusi, eccoci, troviamo sul logo di tragedia, questo plastico grande piccolezza naturale, come potete vedere, non smettere, mi hanno detto anche che sono sopra la media, ero un cinese, compra ultimi libri de Benedetta Parodi, impara che durate da scongelare a soli dieci euro, acquista sette dei preservativi usati come nuovi a cinque euro, preservativi usati come nuovi, ma sono offerte del cazzo, mi scusi, sono anche pericolosi, ma no, chiedilo a me siete fine, è per l'appunto, comunque io le dico, guarda, le confermo, guarda, non mi interessano le sue offerte, mi spiace, che simpatico il signore, comunque qua su, regolamento c'è scritto, cliente, aceta, offerta, firma, catiuscia, va via, l'ultima parte è perfetta, però non mi interessano, cioè, è prima, che simpatico il signore, guardi su, regolamento c'è scritto, cliente, aceta, offerta, catiuscia, poi va via, attaccati a stucca, vabbè, per 30 euro, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.